Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Come vi ho accennato nei video precedenti, abbiamo intenzione di introdurre sul canale temi che possano arrivare a più persone, perché magari il make-up è solo per chi piace truccarsi, eccetera, eccetera, quindi magari non a tutti piacciono i tutorial e vogliamo fare in modo da poter arrivare a più persone, ovviamente restando sempre sulla nostra strada, quindi facendo quello che ci piace, non faremo mai qualcosa che non ci piace perché vogliamo far girare i video, eccetera, quindi appunto rispettando queste cose vogliamo fare dei video che si spostano anche da questo mondo, magari stanno comunque nel tema bellezza, prodotti, vestiti, capi, accessori, eccetera, eccetera. In questo video ho pensato di mostrarvi il mio bracciale Pandora, questo è un video che mia sorella ha fatto un bel po' di tempo fa e io non avrei mai pensato di farlo perché, anche se gira molto questo tipo di video, ecco perché poi uno ha pensato di farlo, perché veramente piace tanto e le persone lo guardano, quindi ho pensato adesso lo faccio anch'io, così magari faccio vedere il mio bracciale che mi piace tantissimo, posso dare qualche consiglio alle ragazze su come crearlo e poi mia sorella già l'ha fatto, ha riscosso tanto successo, ho detto perché non farlo anch'io. Allora ecco qui il bracciale, la mia chiusura è questa qui con il cuoricino, che mi piace tantissimo, io ce l'avevo normale quando me lo regalarono, però poi ho scelto di cambiarlo perché questa era più particolare e mi piaceva tanto. Se vi ricordate, per le appassionate, per chi ha Pandora, questo tipo di chiusura era una limited edition, ma poi è stata inserita nella collezione normale perché è piaciuta tantissimo. Subito dopo abbiamo la catenina di sicurezza, io ho scelto questa qui con i cuoricini tutta in argento, mi piaceva tanto anche quella in argento con i cuoricini oro, ma costava decisamente molto molto di più, solo perché aveva particolari in oro e quindi ho optato per questa. Poi andiamo da questo lato, quindi andiamo verso sinistra, io spero ragazzi vediate perché comunque con questa luce è molto sparaflesciata. Allora il prossimo ciondolo è un distanziatore ed è questo qui, è molto carino, è piccolo però comunque per abbellire il nostro Pandora è davvero carino anche appunto per fare proprio da distanziatore, magari tra due charms più importanti. Io l'ho scelto con la pietrolina lilla perché poi vedrete si abbina proprio a tutti i colori del resto del bracciale. Il secondo charms appunto riguarda un charms colorato, questo è bellissimo, mi piace tanto, l'ha comprato anche mia sorella, infatti ce l'ha anche lei uguale. Ne abbiamo alcuni uguali dicendoli, infatti io mi arrabbiavo sempre perché dicevo che non mi doveva copiare. Comunque questo qui è bellissimo ed è un pavier con tutti i brillantini rosa, rosa più scuro e lilla sempre. Andiamo avanti e dopo il pavier questo qui che mi piace tanto abbiamo il fiocco, anche questo è tanto carino. Secondo me è un bel charms da tenere all'interno di un bracciale molto femminile, mi piaceva tanto. All'inizio di oggi la vita non mi piaceva tantissimo ma poi visto non da solo mi è piaciuto e quindi ho deciso di tenerlo perché questo qua me lo regalano proprio come primo charms insieme appunto a questo pavier colorato e alla teara che vi faccio vedere dopo e all'inizio non lo volevo, poi però ci ho pensato bene su e infatti sono contenta di averlo tenuto. Poi abbiamo questa qui che è la murrina rosa, il rosa molto delicato. A me non piacciono tantissimo le murrine ma ora che il mio bracciale ormai è finito ho deciso di prenderne una poi non so se ne prenderò anche un'altra per tenerla da tutte e due i lati, per fare una cosa speculare ma sono stata contenta di prenderla. Non mi piace tanto, ecco, forse magari quando il bracciale è ancora vuoto ma con un bracciale pieno secondo me da un tocco in più mi piace tantissimo. Uno dei mie charms preferiti è senz'altro questa palla qui di Natale. Io l'adoro, io adoro Natale, lo spirito natalizio, l'amore nel fare l'albero, tutti insieme. Insomma, è uno dei mie charms preferiti, lo adoro ed è proprio carinissimo perché è curato nel particolare, ha disegnato tutti sopra le stelle di Natale, ha questo fiocco stupendo, mi piace da morire comunque. Subito dopo abbiamo il blocco, questo qui, la clip, e questa qui l'ho scelta a speculare anche di là ed è il cuore, con tutti i pali, è sempre rosa, bellissima. Poi abbiamo uno dei must have, secondo me, è uno dei miei charms preferiti. Ovviamente io poi, ragazzi, siccome sono una fissata, ovviamente tutti i charms sono quelli che volevano, non c'è nessuno che qualcuno mi ha regalato di sua volontà, magari per qualcuno, c'è gente magari a cui piace avere ogni cosa che gli ricorda qualcuno, eccetera, però mi piaceva il bracciale che dicevo io, non mi sarebbe piaciuto avere dei charms che magari non mi sarebbero piaciuti. Quindi io tipo avevo fatto la lista con tutte le cose segnate, come facciamo tutte, e questa era una di quelle che desideravo di più, ovviamente perché è la più speciale, se così vogliamo dire, ovviamente la carrozza di cenerentola, quella coroncina dorata, la perla, è piena di particolari minuziosi, con cenerentola anche disegnata all'interno con la tendina, comunque è bellissima, veramente bella e fatta bene. Poi ho questo cuore che è molto bello, è tutto in pavie argento e poi all'interno c'è un cuoricino rosso, invece, anche questo mi piace tantissimo ed è molto molto prezioso secondo me. Poi abbiamo la tiara, eccola qui, con scritto My Princess su questo bordino qui, e poi la tiara è la stessa praticamente dell'anello che fa identico poi Pandora in generale, mi piace veramente tanto ed è il secondo Charles Pendenti che vi mostro. Ne ho praticamente tre pendenti effettivamente, escludendo la catena di sicurezza, però il terzo poi vi farò vedere e l'ho tolto per il momento. Un altro Charles bellissimo che mi piace tanto e che è in tema poi con tutto il mio bracciale, comunque romantico, rosa e così via, è il castello. E anche questo è bellissimo, fatto bene, c'è la corona al di sotto d'oro con il brillantino rosa al centro, insomma, perfettamente in tema, la duro. E infatti sta qui al centro, nella sezione centrale, con la carrozza, la tiara, il cuore e così via. Come vi dicevo, specularmente troviamo l'altra clip, questa qui, con il pavie in cuore da quest'altro lato, poi abbiamo quest'altro Charles che anche mi piace tantissimo, poi secondo me ogni Charles ci rappresenta, perché ovviamente sono tutte cose che ci piacciono, per dirvi che io non mi comprerai mai la, che ne so, a parte le cose che non mi piacciono, anche se magari mi piace, non lo so, i vestiti, ecco qua, non mi comprerai il vestitino con l'appeso perché non mi piace, per dirvi. Però, dicevo, è bello anche prendere i charms che ci rappresentano, per dirvi, io adoro i gioielli, sono vanitose, eccetera, e questo è lo scrigno, porta gioie, lo adoro, è troppo carino anche questo, poi ragazzi sono tutti minuziosamente realizzati questi gioielli, c'è questa collanina che fuoriesce, con il cuoricino dorato, e poi una delle cose che mi piace di più è che al di sotto c'è scritto My Unforgettable Moments, ed è una cosa che mi piace tanto, questo particolare. Andiamo avanti, abbiamo questo Open Work, che è uno di quelli che scelsi durante poi la mia composizione del Pandora, che qui disegniamo sul libretto, e questo mi piace tantissimo, anche questo è molto carino, ed è bello perché ha anche questo, e sono tutti cuoricini rosa, rosa chiarissimo, e poi c'è un solo cuoricino, anzi due se non sbaglio, sono invece in oro, e più tridimensionale, anche questo è bellissimo, e arricchisce secondo me il Pandora in maniera molto carina. Poi abbiamo il cupcake, anche qui io sono una golosona, sono una, veramente una golosa, all'estrema potenza, e poi è troppo carino da vedere, è tutto in argento, e ha la pallina sopra qui, come se fosse la cilegia in oro. Poi c'è quest'altro Open Work, che è meraviglioso, è tutto brillantinato, veramente brilla un sacco, ed è tutto in argento, ed ha due particolari, i particolari centrali di questa specie di fiore, sono invece in champagne, sempre brillante. Abbiamo anche qui, quindi in maniera speculare, il distanziatore, e poi si conclude il bracciale. Come vi dicevo, a me piacciono le cose fatte bene, nel senso che l'ho creato proprio come lo desideravo, e mi piace tantissimo, e questa è una proprio anche delle cose più belle di Pandora, perché a me quando una cosa ce l'hanno tutti, infatti quando all'inizio era uscito e ce l'avevano tutti, erano usciti tutti pazzi per questo Pandora, non lo volevo proprio per questo motivo, perché dicevo, cioè ce l'hanno tutti, ma voglio fare sta cosa così, solo perché va di moda, perché poi comunque costa tanto, molti dicevano, magari poi passa di moda, non lo metti più, invece secondo me creandolo, non perché è di moda, ma perché appunto ci piace davvero, ci piacciono davvero i charms, li scegliamo, li scegliamo veramente accuratamente, per creare il nostro bracciale della vita, tra virgolette, è bello anche da tenere come ricordo, proprio a me piace tantissimo, ce l'ho già da due anni, e lo adoro, secondo me è un gioiello speciale, è una delle particolari di Pandora, particolarità appunto, è proprio che ce lo scegliamo, è proprio, è una veramente una cosa di marketing fantastica, hanno fatto, perché ognuna si vuole sentire speciale, questo particolare di Circe, il bracciale e farlo a propria immagine e somiglianza, ci fa sognare. Allora, vi avevo detto che un charms l'ho tolto, per questo periodo qui invernale, perché sto parlando di un altro dei miei charms preferiti, questo qui, che ve l'ho mostrato già in un altro video, perché ho appunto creato questo choker, comunque il charms con la stela di Natale, anche questa per lo stesso motivo di prima, alla fine perché adoro il Natale, la neve comunque ci fa sognare, è bello e romantico, arricchisce il Pandora, mi piace tantissimo, e per il momento, per questo periodo invernale, adoravo questa idea di metterla come choker, e quindi ho fatto un choker, poi ovviamente, quando voglio, la rimetto vicino al bracciale. Poi vi mostro, ah, ecco, ora mi è venuta in mente, invece di far vedere soltanto la ghioccia, vedere tutte le cose Pandora, se non mi dimentico qualcosa, un altro prodotto Pandora è sempre un bracciale, però ho deciso di non riempirlo questo qui, perché mi piace tantissimo da solo. Sto parlando di un bracciale, questo qui sempre, con la filettatura, perché purtroppo lo fanno soltanto così, questo qui, a meno che non siano delle edizioni limitate, ed è questo qui, con la chiusura sempre a cuore, ma tutto in pavie. Allora, mi piace tantissimo, io in realtà me ne ero innamorata, appunto, di un'edizione limitata purtroppo, era questo bracciale invece rigido, con la chiusura in pavia a cuore, mi piaceva tantissimo, anche perché c'era una frase, l'avevano fatto per la festa della mamma, ora non me la ricordo, però era veramente bellissimo quello lì, però appunto, sendo edizione limitata, non c'era più. Poi hanno messo in commercio questo, invece, che anche se è con la filettatura, mi piace lo stesso, non è speciale come quello, però mi piace lo stesso, e quindi lo desideravo tantissimo, e me l'hanno regalato, e anche questo mi piace tanto, lo indosso comunque insieme al Pandora, ma come vi dicevo, senza nient'altro. Allora, spero e penso di non aver dimenticato nulla, perché veramente il colmo, alla fine non sono tantissime cose, comunque, un altro prodotto, che ho di Pandora, che mi piace da morire, è sempre a tema natalizio, sono sempre le stelle di Natale, questi qui però sono gli orecchini, mi piacciono tanto, me l'hanno regalato l'anno scorso, e lo indosso spesso, sono bellissimi, una volta pensa solo a Natale, invece no, perché la neve c'è tutto l'anno, cioè nel senso, c'è tutto il periodo invernale, quindi sono belli, sono veramente eleganti, sono carini, illuminano l'orecchio, mi piacciono tantissimo, poi, infine, mi mostro due anelli, allora, uno, che è il primo che mi è stato regalato, che avevo scelto, è questo qui, è questo qui, con tutti i cuoricini, argento, e poi ce n'è anche qui, soltanto uno in oro, questo pure mi piace tantissimo, magari non lo indosso da solo, ne aggiungo un altro, e questo è molto carino, è semplice, mi piace veramente moltissimo, e poi un altro invece, un po' più grande, un po' più, diciamo, particolare, è questo qui, che è simil bulgari, infatti, sul bordo c'è scritto Pandora, lo adoro, ha al centro, tutte palline argento, e poi, tutte e due i lati, in maniera speculare, brillantini, quindi tutta una filettatura di brillantini, anche questo mi piace tantissimo, ragazzi, non mi dico che un periodo l'avevo perso, veramente, mi ero un sacco, mi ero un sacco dispiaciuta, perché non lo riuscivo a trovare, poi, per fortuna, l'ho ritrovato praticamente in un jeans, perché poi io sto molto attenta, quindi mi dispiaceva, perché dicevo, se non l'ho ritrovato, vuol dire che l'ho perso, però come faccio ad averlo perso, però non ero neanche convinta di averlo perso, perché dicevo, magari se me lo ricomprerò lo ritrovo, comunque per fortuna l'ho ritrovato, non mi perdo più in chiacchiere, perché vi ho mostrato tutto ciò che vi dovevo mostrare, io spero che vi abbia fatto compagnia questo video, vi abbia fatto vedere magari qualcosa che possa piacere anche a voi, io mi ho fatto piacere parlarne, perché sono cose che mi piacciono, vi mando un bacio, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale se vi va, e seguiteci su tutti i social, io vi mando un bacio, al prossimo video.